Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a Non è l'arena, come sempre. Intorno a me c'è un vuoto, non c'è il pubblico, lo vedete, è un teatro dove si vive, dove c'è la gioia, dove ci sono le applausi, dove ci sono le tensioni, normalmente non c'è nessuno. Qualcuno potrebbe dire, dirà sicuramente, beh se si fosse fatto qualcosa di diverso, forse non si sarebbe arrivati a questo punto. Però credo che parlare di quello che si sarebbe potuto fare o non si è fatto è uno spreco inutile di energie. Oggi, soprattutto chi fa il mio lavoro, secondo me ha un dovere, quello di evitare che ci sia un'eclissi, l'eclissi della ragione. Stiamo finendo in un tunnel dell'emotività. C'è chi usa la parola paura, ma io non credo che sia il termine esatto, perché la paura è qualcosa con la quale noi ci confrontiamo. Possiamo anche fuggire, cioè qualcosa che è ben determinata, ben visibile. Oggi, per la prima volta, abbiamo paura? No, abbiamo l'angoscia. L'angoscia perché il coronavirus è qualcosa che non è determinabile, non è identificato, non si vede, però c'è, lo vedete qui alle mie spalle, ha anche una sua bellezza. E quindi il problema vero oggi è gestire, e parlo del governo e di chi deve assumersi la responsabilità, l'angoscia che inevitabilmente c'è in ognuno di noi. Ma, ripeto, usiamo il cervello, usiamo la ragione, siamo di fronte a qualcosa che l'uomo sconfiggerà. Il problema vero è che bisogna parlare in pochi e devono parlare soprattutto le persone competenti. Forse, se devo fare un appunto mio personale, è che in questa situazione abbiamo sentito dire tutto il contrario di tutto. Faccio un unico esempio. L'altra settimana si è fatta una partita, da Bergamo sono andati a Lecce. Oggi si chiude tutta la Lombardia. Cioè, ci sono delle cose schizofreniche che noi, da domani, dovremmo evitare. Ma siamo chiamati noi stessi, tutti voi che ci state anche ascoltando, ogni singolo cittadino, ha un senso importante di responsabilità. E poi permettetemi di dire una cosa ai politici. Allora, oggi la classe politica fa l'elogio dei medici, degli infermieri. Insomma, pensate cosa vuol dire lavorare 12 ore di seguito con uno scafandro addosso, nel caldo, con l'ansia, l'angoscia, la lucidità che devi avere per intervenire in una sala, per esempio, di rianimazione. Ecco, la stessa classe politica che fa l'elogio oggi è la stessa classe politica, se non parente vicina, di chi invece ha tagliato i fondi per la sanità. Per cui oggi abbiamo meno sale di rianimazione, meno spazi, meno posti letto rispetto ai paesi più importanti. Ecco, allora ci vuole un po' di coerenza. E se da questa situazione, e se anche in questa situazione, un paese ne esce più forte, ed è la nostra speranza, perché poi nei momenti difficili si vedono davvero le persone, si inquadra l'orgoglio, il sentimento anche forse che noi abbiamo perso, il patriotismo forse è una parola alta, ma dobbiamo tornare a essere orgogliosi di essere noi italiani e di uscire a testa alta da questa situazione drammatica. Però io credo che appena uscito da questa situazione qualcuno ci deve spiegare e deve dire con chiarezza che nei momenti di emergenza è il governo centrale che deve comandare, è una persona sola che nelle emergenze deve prendere a disposizione, se no ognuno si alza, ogni regione dice no, io chiudo la scuola, no, no, io non la chiudo. Ecco, diventa di nuovo un'anarchia pericolosissima. E poi, io sono rimasto basito l'altra sera, poche sere fa, ero da Lili Gruber, e una persona importante che fa l'eurodeputata in Parlamento su a Bruxelles, la mia domanda dice, beh, ma noi dal punto di vista della sanità l'Europa può far poco, sono i singoli paesi. Ecco, se l'Europa neanche di fronte a un'emergenza mondiale come quella del coronavirus, che io ripeto, si controlla, si controlla, ma se neanche di fronte a questa situazione non si esce con una risposta univoca, un sostegno univoco, beh, insomma, non chiamiamola più Europa. Do il benvenuto ai nostri ospiti a qualche istante, ma prima vi voglio far ascoltare dalle parole di Fiorello perché ognuno di noi può fare qualcosa per evitare che le sale di rianimazione, le zone di rianimazione, vengano intasate, perché questo è il vero problema. E il vero problema è cercare di evitare di contagiarsi con modo intelligente. Ascoltate.